Bentornato in Scio Facile e benvenuto in questo nuovo capitolo dove andremo finalmente a vedere tutte le abilità tecniche che dovrà prendere uno sciatore esperto. Prima di tutto mi voglio complimentare con te perché se sei arrivato qui significa che già hai superato tutta la prima fase dei fondamentali, tutto il capitolo degli sciatori principianti e tutto il capitolo degli sciatori intermedi. Dovreste averlo appena finito e appena provato e testato in pista. Questo significa che hai già iniziato a divertirti in pista perché quando si passa dallo spazzaneve fino a arrivare alle sciate con gli sci paralleli da quel momento già si inizia a divertirsi in pista, si iniziano già a vedere dei panorami un po' più belli perché ci si azzarda a salire magari nelle piste un po' più in alto dove magari ci sono piste rosse quindi insomma sono certo che già hai iniziato a assaporare la bellezza di questo sport. Tutto quello che hai assaporato fino adesso però ora migliorerà di 100 volte perché adesso nello sciatore esperto arriviamo ad imparare l'abilità tecnica della conduzione che significa quella sciata che ci permette di effettuare le curve senza sbandare in curva quindi senza fare quel rumore in curva ma semplicemente appoggiandoci sulle lamine quindi sul lato dello sci e disegnando sulla neve due traiettorie rettilinee come se fossimo su due binari del treno. Quindi noi a inizio curva ci appoggeremo alle lamine agli spigoli dei nostri sci e effettueremo la nostra curva rimanendo appoggiati su di essi fino a quando non completeremo la nostra curva e saremo pronti di invertire gli spigoli nell'altro lato per iniziare ad indirizzare la nuova traiettoria di curva ed effettuare appunto la traiettoria stessa ok come procederemo in questo video introduttivo che ti porterà ad imparare queste tecniche allora inizialmente ti voglio presentare questa parte questo capitolo del video corso dedicato allo sciatore esperto poi andremo a vedere cosa cambia proprio livello di materiali perché da adesso il materiale è fondamentale per riuscire ad effettuare delle curve condotte gli sci gli scarponi i ganci quindi i nostri attacchi le piastre che avremo sotto gli sci diventano fondamentali per poter riuscire appunto ad effettuare questa nuova tecnica quindi direi iniziamo subito a vedere le slide in modo da seguire queste slide appunto per andare a vedere tutto quello che ci serve e vedrai che non ci dimenticheremo niente quindi iniziamo dalla prima slide ok e innanzitutto andiamo a vedere gli sci ti voglio dire questo nei fondamentali c'è un video dedicato al noleggio e un video dedicato alla personalizzazione dell'attrezzatura ecco quel video adesso diventa fondamentale quindi consiglio che ti do io è ritornare nei fondamentali e andarlo a rivedere quel video perché in quel video ci sono proprio le indicazioni precise dettagliate che sono quelle che ti servono per scegliere e per avere sotto i piedi l'attrezzatura adatta a questo tipo di livello perché se ti faccio un piccolo riassunto adesso lo sci è fondamentale che abbia l'anima in legno perché adesso le forze fisiche che agiranno nella nostra sciata aumentano di gran lunga rispetto alla tecnica del cristiania vista nel capitolo precedente adesso le forze fisiche che interagiscono con i nostri muscoli con le note che con la nostra attrezzatura diventa fondamentale avere una resistenza una elasticità e una deformazione tale che ci permette di divertirci finché siamo utilizzando questa tecnica quindi consiglio mio piccola parentesi se non ce l'hai ancora se non ce l'hai ben presente quel video metti un attimino in pausa questa presentazione questo video introduttivo e vai a dare un'altra occhiatina perché adesso io qui ti presenterò l'attrezzatura che lì è spiegata cento volte meglio quindi piccola parentesi se non ti ricordi bene quel video metti in pausa e vai a vedere quel video lì se invece ce l'hai già ben presente quel video perché l'hai visto di recente allora puoi rimanere qui con me e possiamo procedere insieme quindi andiamo a vedere in ordine i sei consigli per iniziare primo consiglio che sci dobbiamo avere gli sci che dobbiamo avere e quindi gli sci consigliati in questo livello sono gli sci di categoria race carver che sono ovvero molto molto simili agli sci da gara ma sono più morbidi e versatili invece per chi ha una preparazione tecnica e fisica pre agonistica andiamo ad utilizzare gli sci di categoria race quindi gli sci dedicati all'agonismo quindi magari per tutti quei ragazzini che sono nello sci club che stanno facendo che si sono appassionati allo sci e hanno deciso di entrare a far parte dello sci club oppure per gli appassionati dello sci già più adulti che magari partecipano alle gare dei master ok è fondamentale avere gli sci di categoria race e lì andremo a vedere poi la curva sportiva ma facciamo un passetto alla volta andiamo prima a vedere gli sci mentre invece se tu stai arrivando da una progressione didattica come può essere da questo videocorso quindi se hai seguito tutti i video conseguenti uno all'altro per arrivare fino a qui allora adesso è il momento di scegliere gli sci race carver entrambi questi sci hanno l'anima in legno quindi riusciranno a rispondere a tutte le forze fisiche che interagiranno con noi durante la nostra curva effettuata con gli sci in conduzione quindi senza sbandare come dicevamo prima ma appoggiandoci sullo spigolo sulla lamina del nostro sci e rimanendo sopra di esso fino a quando lo sci ci permetterà di effettuare la curva perché lo sci in questo caso effettuerà la curva senza dover noi ruotare i piedi perché ti ricordi fino allo scettore intermedio si parlava di guida dello sci nello spazzaneve si parlava appunto di questo movimento punte che rimangono vicine con le che si allontanano nello sci intermedio si parlava di rotazione di guida del nostro sci e quindi di conseguenza lo sci girava perché? perché ruotavano i nostri piedi noi facevamo partire l'input di rotazione lo sci passava sulla lamina e grattando sulla neve ci permetteva di cambiare direzione adesso invece non c'è più questa rotazione c'è semplicemente l'inclinazione come fanno gli sci ad effettuare la curva se io non ruoto i piedi ma li inclino solo? l'avevamo già visto ma lo ripetiamo brevemente quindi porta pazienza se già queste cose le hai ben chiare ma preferisco ripeterle per bene in modo da essere certi che tutti quelli che stanno seguendo questo video possano capire allora gli sci abbiamo detto che sono sciancrati cosa significa la parola sciancrati? significa che la punta dello sci è larga tanto quanto la coda ma al centro dello sci la larghezza è minore quindi lo sci disegnerà questa forma quindi la parte finale dello sci sarà larga la parte centrale dello sci quindi in corrispondenza dei nostri scarponi sotto i nostri piedi sarà più stretta per poi ritornare larga in cima quindi se tu immagini questo sci posizionato in un piano inclinato ok? senza premere al centro lo sci toccherà in questo piano inclinato dove? dove la soletta è più larga quindi dove? sulla punta e sulla coda però quando io schiaccio appoggiando lo sci sulla punta e sulla coda vedrò questa piccola parentesi tra lo sci e la neve però se schiaccio lo sci e lo sci si deforma a sufficienza tutto lo sci toccherà la neve disegnando appunto su di essa questa curva se io col mio peso rimarrò appoggiato a questo sci proseguendo in una linea in una corsia rettilinea lo sci appunto essendo sciancrato questa curva me la farà effettuare in questo modo qui ok? sono riuscito a spiegarmi bene? lo sci sciancrato significa che la punta è larga tanto quanto la coda mentre invece al centro dello sci in corrispondenza del nostro scarpone abbiamo la soletta meno larga rispetto alla punta e alla coda questo permetterà lo sci semplicemente inclinando i nostri piedi con la forza centrifuga che ci porterà all'esterno della curva A quindi tutto lo sci sarà appoggiato alla neve rimanendoci sopra rimanendo con il nostro peso in equilibrio sopra gli sci sfruttando la forza centrifuga ci permetterà di effettuare la curva senza necessitare di ruotare i piedi senza dover ruotare i piedi ok? bene passiamo al consiglio successivo che è il consiglio dedicato agli scarponi come devono essere gli scarponi gli scarponi devono essere di categoria race agonismo devono essere dotati di sistemi di regolazione e di personalizzazione in modo da avvolgere perfettamente il piede assicurando così la massima precisione nella trasmissione degli impulsi e nella reazione ai carichi cosa significa avere gli scarponi di categoria race? innanzitutto gli scarponi di categoria race hanno una plastica che è più resistente rispetto agli scarponi dedicati ai principianti sempre per lo stesso motivo perché qui le forze sono maggiori e quindi la resistenza che deve avere lo scarpone ok? deve essere maggiore ok? quindi qui tendenzialmente lo scarpone deve essere sicuramente con una durezza della plastica superiore almeno ai 130 poi rivedendo i video dei fondamentali ne abbiamo già parlato più volte quindi per questo ti dicevo di andare a rivedere quei video lì comunque sia quando ti affiderai al noleggiatore o quando ti affiderai al proprietario del negozio di sci dove vendono attrezzature invernali lui sicuramente sarà preparato su questo se tu gli dici che sei uno sciatore esperto avrai comunque se è arrivato fino ad oggi sai già queste cose quindi insomma cercherò di essere anche più veloce a spiegartene perché senza essere troppo ripetitivo il concetto te lo dico senza però stare a rispiegarti tutto nuovamente perché l'avevano già vista queste cose anzi sono certo che già le sai queste cose se sei arrivato fino a qui quindi scarponi categoria agonismo race significa che devono avere una plastica dura devono avere una larghezza che sta molto vicina alla larghezza del tuo piede e la scarpetta che c'è all'interno più ergonomica sarà quindi più avvolgerà per bene il tuo piede ok più sarai preciso nelle inclinazioni ma allo stesso tempo sarai anche comodo se lo scarpone è fatto sulle misure dei tuoi piedi quindi insomma nella personalizzazione parlavamo proprio di questo e te lo consiglio vivamente adesso proprio per una questione di sensibilità quindi di proprio eccezione per sentire bene cosa succede sotto i tuoi piedi gli avvallamenti, i saltini la differenza tra neve ghiacciata e neve morbida quindi i tuoi piedi saranno molto più sensibili e tu sarai molto più preciso anche preciso perché? perché ad ogni movimento corrisponderà anche un minimo movimento che tu farai con la tua caviglia con i tuoi piedi cosa succederà? direttamente si collegherà un movimento allo scarpone che poi verrà trasmesso agli sci quindi sarai molto più preciso e con la durezza dello scarpone riuscirai a resistere alle forze che interagiranno durante la tua curva effettuata in angolazione e tu riuscirai ad effettuarla altrimenti con se tu non avessi questa tipologia di scarpone race quindi per esperti per professionisti uno rischieresti di farti male perché se lo scarpone non resiste alle forze che tu crei in curva rischi di farti male alla caviglia di cadere eccetera eccetera quindi lo scarpone qui è fondamentale e il consiglio mio avere il proprio scarpone è una cosa che ti consiglio veramente uno perché lo scarpone è veramente la parte più importante ricordati che la parte più importante del tuo corpo per sciare sono i tuoi piedi quindi avere il tuo scarpone personale che devi costruire con massima gelosia devi avere massima cura del tuo scarpone quando arrivi a casa la sera ricordati di togliere le scarpette perché se tieni le scarpette all'interno dello scafo lo scafo è la plastica la scarpetta è quella parte dello scarpone diretto contatto con le tue calze se tu la lasci bagnata all'interno dello scafo puzzerà rimarrà bagnata la spugna la gomma piuma che c'è all'interno tenderà a marcire quindi quando arrivi a casa la sera dallo sci ricordati di togliere la scarpetta dallo scafo metterla sul termosifone per scaldarsi per asciugarsi soprattutto lo scarpone ricordati se riesci quando lo compri esistono anche delle plastiche protettive che impediscono di usurare la parte sottostante allo scarpone quando cammini nel parcheggio perché sai da quando parcheggi la macchina e metti gli scarponi ai piedi ad arrivare alla pista c'è sempre un po' di strada da fare camminando sul ghiaino sui sassi sull'asfalto camminaci 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 la parte sottostante si consuma come una scarpa da ginnastica ovviamente quindi esistono quando tu andrai a comprarti gli scarponi che io ti consiglio vivamente di comprarti magari già che ci sei chiedi al negoziante anche la protezione ok per quando tu uscirai dalla macchina e metterai gli scarponi avrai già sotto la tua plastica protettiva che quando arriverai poi in pista prima di agganciare gli scarponi all'attacco toglierai e te la metterai nello zaino in tasca quello ti permetterà di proteggere e conservare meglio i tuoi scarponi soprattutto se vai a spendere una cifra anche abbastanza importante per quegli scarponi perché comunque se gli scarponi di questo livello hanno anche il suo costo è giusto trattarli come meritano di essere trattati quindi insomma ti do anche questo consiglio infine perché anche avere gli scarponi in proprietà anche per una questione di igiene ok se sei diventato uno sciatore esperto significa che ti sei appassionato di montagna e significa che vai a sciare spesso magari anche tutti i weekend durante la stagione invernale e magari ti fai anche le trasferte estive da qualche parte in ghiacciaio da noi magari allo Stelvio magari in Val Senales uno dei nostri fantastici ghiacciai estivi o magari vai anche le Desalpi che in Francia Intertux che in Austria o altri ghiacciai così o addirittura magari anche in altri continenti ricordi che da noi quando è estate non si può sciare nelle piste normali al sud del mondo si può sciare come in Argentina Cile Nuova Zelanda Australia ok quindi insomma se sei arrivato fino a qui significa che ti sei appassionato di sci e significa che utilizzi spesso gli scarponi quindi è bene che siano i tuoi perché sennò altrimenti qual è l'altra soluzione andare ogni volta a noleggio e per quanto i noleggi siano bravissimi a disinfettare la scarpetta interna io personalmente ti dico cosa penso e ti consiglio di comprarti gli scarponi ok e soprattutto di costodirli gelosamente andiamo avanti vediamo il terzo consiglio il terzo consiglio riguarda gli attacchi come devono essere gli attacchi gli attacchi devono sempre essere della categoria race devono esaltare le caratteristiche dello sci e garantire oltre a quello di sganciamento buoni valori di ritenzione cosa significa lo scarpone adesso scusami l'attacco deve comunque essere di categoria race quindi che differenzialo l'attacco della categoria race rispetto all'attacco del principiante che ha una scala graduata maggiore i famosi din arrivano ad una scala maggiore quindi sono più resistenti perché come dicevamo prima i carichi aumentano in curva e l'attacco deve resistere ok altrimenti ad ogni curva che fai ad alte velocità si stacca l'attacco e finisci rovinosamente per terra essendo ad alte velocità tu necessiti di avere degli attacchi affidabili ricordi che l'attacco è quello strumento che ti tiene agganciato allo sci quindi fondamentale che sia di alto livello e che ti dia la giusta affidabilità tu devi essere tranquillo del tuo attacco tu devi avere un attacco ai piedi di alta qualità perché ti mette la giusta tranquillità mentre sci ti devi fidare di lui ok deve avere laggiù i buoni valori di ritenzione quindi di rimanere di permettere di rimanere attaccato ad esso ma deve avere anche buoni valori di sganciamento quindi quando l'attacco tu prendi un colpo di lato significa che magari sei caduto l'attacco si deve aprire prontamente quindi non risparmiare sull'attacco perché ne va della tua sicurezza ok è consigliato l'abbinamento con piastre per garantire una deformazione ottimale degli sci e rendere il braccio di leva più favorevole per la presa di spigolo allora questo cosa significa le piastre sono degli spessori che vanno collegati allo sci e aumentano la distanza del tuo attacco allo sci stesso quindi l'attacco non va fissato direttamente allo sci ma allo sci ci va fissata la piastra e alla piastra va fissato l'attacco questo ti permetterà di come l'ha detto qua ottimale gli sci e rendere il braccio di leva più favorevole perché il braccio di leva perché la distanza dal tuo piede alla neve essendoci una piastra in mezzo oltre che gli sci chiaramente diventa maggiore quindi tu hai più maggior braccio cioè riesci ad inclinarti maggiormente inclinandoti maggiormente riesci ad incidere sulla neve maggiormente e di conseguenza riesci ad essere più stabile ed avere più controllo quindi altro consiglio importante mettiamoci anche le piastre ok sui nostri sci questo ci permetterà di avere più controllo dello sci stesso e ci permetterà anche di divertirci di più perché ci permetterà ci permetterà appunto di inclinarci maggiormente quindi quasi andando con tutta la mia parte interna del corpo a sfiorare la neve stessa che c'è all'interno della mia curva e diventa veramente veramente divertente quindi ti consiglio anche di avere la piastra per consigli dettagliati affidiamoci a un professionista che può essere nella località in cui vai a sciare normalmente nei noleggi all'interno c'è anche chi prepara gli sci e chi è esperto della preparazione degli sci appunto ecco quella è una figura a cui io mi affiderei per acquistare anche le piastre adatte oppure anche il negoziante se ti posso dare un ulteriore consiglio se devi comprarti la tua attrezzatura magari costerà un po' di più ma valla a comprare in montagna con tutto il rispetto dei noleggiatori e dei negozianti che ci stanno in pianura perché quello che ti sto dicendo è un mio pensiero non è una regola fissa perché può anche essere vero il contrario ma tendenzialmente se una persona apre un negozio in montagna molto probabilmente è da quella zona essendo di quella zona molto probabilmente non è sempre vero ma avrà un'esperienza maggiore rispetto magari al negoziante della città che magari apre il negozio dell'attrezzatura sportiva in città perché è appassionato perché ama la montagna ma non ha un'esperienza così rodata ok quindi non è sempre vero ma se io fossi in te l'attrezzatura la andrai a comprare in montagna perché molto più probabilmente troverai l'esperto che se ne intende di più anche se questa cosa non è sempre vera non mi vogliono le persone che hanno un negozio di articoli sportivi invernali in questo momento ok quindi piccola parentesi abbiamo visto gli attacchi abbiamo visto le piastre andiamo avanti vediamo il consiglio successivo che sono direttamente tre questi li abbiamo visti anche nel video introduttivo che è uguale per i cittori intermedi ovvero cerchiamo di avere sempre l'abbigliamento adeguato al clima quindi andiamoci a rivedere se non te lo ricordi bene il video dedicato all'abbigliamento dove è spiegato molto molto bene le differenze tra i vari materiali i vantaggi che ha un materiale rispetto a un altro eccetera come riconoscere il materiale adatto che ci permettrà di arrivare in pista e non soffrire il freddo e non soffrire dell'eccessiva sudorazione se dovesse essere caldo la giusta preparazione fisica adesso è ancora più importante rispetto ai capitoli visti precedenti adesso ritornando a quello appena detto poco fa le forze aumentano quindi noi dobbiamo resistere a delle pressioni maggiori e per riuscirci se non hai una muscolatura una muscolatura muscolo muscolatura scusami una muscolatura resistente e adatta a questo tipo di sciata ti stancherai ancora prima ok quindi se sei all'inizio della stagione mi raccomando accertati di aver fatto la giusta precistica e di avere inrobustito nella maniera adeguata la tua muscolatura mi raccomando fondamentale sono tutti i video nei fondamentali che ti dicono proprio come svolgere questi esercizi propedeutici per arrivare in pista con la muscolatura adatta a resistere questo tipo di fatiche queste forze che interagiranno con noi durante la sciata fondamentale e poi la corretta alimentazione io ci tengo molto a questa cosa perché chiaramente le nostre energie che mettiamo nei nostri muscoli da dove arriva arriva dall'alimentazione da quello che ingeriamo ok quindi fondamentale bere l'acqua fondamentale le proteine fondamentale le vitamine tutte quelle cose abbiamo fatto un video dedicato appunto anche all'alimentazione quindi mi raccomando quello è un video che va bene per la tua vita in generale non solo per la pratica scistia quindi dagli la giusta considerazione a quel video ogni tanto vattelo a rivedere scaricalo nel tuo computer guardatelo più volte tieni bene a mente quei consigli perché quei consigli veramente miglioreranno non solo la tua sciata ma la tua qualità di vita che è fondamentale ne abbiamo una sola di vita io guarda quando penso a queste cose mi viene sempre in mente questo esempio se quando tu sei nato ti avessero detto ti diamo una macchina sola e quella macchina quell'automobile la dovrai curare per tutta la vita perché avrai solo quella macchina nella tua vita come la tratteresti quella macchina la tratteresti benissimo staresti attento al carburante che ci metti dentro quella macchina staresti attento a mantenerla con le gomme sempre nuove a mettere l'olio di continuo a controllare la cinghia di distribuzione ogni tot chilometri staresti molto molto attento il tuo corpo è la stessa cosa ne abbiamo uno solo nella nostra vita quindi abbiamo ne cura mi raccomando dai la giusta cura al tuo corpo e per prima cosa l'alimentazione come cosa mangi cosa bevi e quanto bevi e come respiri sono le tre cose più importanti che dovresti dare la giusta attenzione e in quel video è proprio spiegato tutto questo non ce lo insegna mai nessuno oppure sentiamo veramente tante diete diverse una confusione tale in quel video è sintetizzato un po' tutto ci sono le migliori tecniche abbi la giusta attenzione ma ora andiamo avanti e andiamo a vedere la scelta del pendio ora siamo degli sciatori esperti quindi il pendio non è più un problema con le tecniche che imparerai in questo capitolo potrai effettuare e potrai praticare la tua sciata in qualsiasi tipologia di pista quindi dalle piste blu alle piste rosse fino ad arrivare alle piste nere ok quindi nessun problema chiaramente finché non imparerai ad effettuare la curva condotta che è la curva di cui parleremo in questo capitolo la pratica non andrà a farla sulle piste nere ovviamente ma le piste nere saranno il punto di arrivo prima di arrivare alle piste nere facciamo tutti questi esercizi che ti presenterò nei due video successivi le andiamo a effettuare nelle piste adatte che possono essere anche le piste blu e le piste rosse principalmente le piste rosse ma anche le piste blu non le dimenticheremo perché in alcuni esercizi torneranno molto utili e sarà più facile imparare alcuni esercizi nelle piste blu quindi piste blu e piste rosse poi quando vogliamo ci sentiamo pronti ci sentiamo tranquilli di andare anche a pendenze maggiori ok possiamo anche andare sulle piste nere senza nessun problema perché hai tutte le abilità necessarie per andare nelle piste nere la cosa più importante che devi ricordare sempre che io dico sempre i miei allievi quando arrivi nella piste nere sono due più pendente è la pista più le mie spalle lo faccio vedere di qua questo è il nostro pendio più il nostro pendio aumenta più io devo abbassare le spalle lo sai benissimo perché perché gli assi devono sempre essere paralleli alla pista se io abbasserò le mie spalle in modo tale di arrivare con i miei assi paralleli alla pista di conseguenza le mie lamine saranno attaccate alla neve alla pista di conseguenza sono perfettamente in controllo di quello che succede seconda cosa importante non devi vincere la paura adesso nelle piste più ripide è normale che guardar giù ci faccia più effetto quindi sempre per il nostro spirito di conservazione tenderemo nel momento in cui dovrò approcciare la prima parte di curva tenderemo ad arretrare la peggior cosa che puoi fare non devi aver paura quindi per questo dico vai in pista solo quando in piste nere solo quando te la senti perché lì dovrai avere il coraggio di buttarti quindi di fare la tua estensione per invertire gli spigoli da questo lato adesso in questo caso stiamo facendo la curva verso sinistra quindi io adesso sono agganciato alla pista abbassando la mia spalla sinistra con le ginocchia spostate verso monte e con i miei con le mie lamine agganciate alla pista quando voglio invertire l'amina quindi passare da questa situazione a questa situazione questi sono i miei piedi dovrò estendermi verso la discesa quindi quando arrivi in pista nera quella sarà soprattutto le prime volte dovrai riuscire a vincere quella paura che inevitabilmente c'è però tu già lo sai perché veramente in questo video corso stiamo cercando di darti tutte le informazioni necessarie che tu devi avere questa cosa già la sai quindi se già la sai aspettatela e cerca di vincerla controllarla accorgerti che è quella paura sai che Davide te l'aveva già detto quindi tu già la sapevi non è inaspettata è aspettata quindi dovrai essere bravo lucido di non aver paura di fare la tua estensione verso la valle e poi invertire gli spigoli ma se hai seguito tutta questa progressione partendo dalle piste baby passando dalle piste blu e passando dalle piste rosse questa paura sarà relativa ok? considera che alcune piste rosse sono quasi già delle piste nere quindi se già tu fai le piste rosse non avrai grossi problemi passare alle piste nere avrai grossi problemi da defettuare le piste nere se dal principiante dalla pista baby vuoi passare subito alla pista nera lì di sicuro vai a farti male quindi mi raccomando seguire tutta la progressione didattica quindi scelta pendio nessun problema li possiamo fare tutti grazie a tutti